Prima di provare questi esercizi fate un riscaldamento total body e riscaldate anche per bene i polsi. Il primo esercizio ci abituerà a stare a testa in giù e a mantenere l'allineamento del tronco. Ricordate di tenere sempre le spalle in spinta, l'addome e i glutei contratti. Una volta che siete riusciti poi provate questa seconda variante in obliquo. Proviamo ora la verticale al muro di pancia, importante per mantenere l'allineamento. Per imparare lo slancio proviamo la verticale al muro col cambio e la verticale normale.